Le patatine senza glutine, fa per un'altra cosa, non è per il compleanno. A questo punto fammi il pettine al piatto con le patatine. Due pettine di pan pauletto. Il pettine al piatto con due pettine di pan pauletto e le patatine a parte, e non ci dirò che non è quello per il compleanno, è a parte. Ristendo i quanti dalla medicina, se non aspettate vai lì. È pronto? Partire con le patatine e così via. Sono pronte. Per caso? Sì, le patatine sono pronte. Ma mi sento qui. Pett'altro la prende? Sospito no. Lo dog è normale, giusto, Don Lu? Malissimo, ketchup e maionese è quello classico nostro. La persona normale. Comunque sì. Pett'altro la prende? Sospito no. Lo dog è normale, giusto, Don Lu? Malissimo, ketchup e maionese è quello classico nostro. La persona normale. Comunque sì. Pronta.